Che c'hai da rompermi i coglioni? C'era l'avviso fuori, se entri, ti tiro una freccia al collo. E mo l'amico tuo, me lo inculo pe bene. Io d'avviso, ogni volta che punto il dito contro qualcuno, quel qualcuno finisce male. Mo le faccio un culo largo come quello di mi madre, porco Dio. Vedi, i buchi di culo a me piacciono così, rotondi, da sfasciare. E quello di tua madre è già bello che rotto. Pezzo de' merda! Sì, me è eccita quando mi chiami così, pezzo de' merda. Perché sto a cuore al rallentatore? Non riesco a raggiungerlo, porco Dio! Allora quegli uomini si affrettarono e trovarono Daniele, che pregava e supplicava il suo Dio. Ma che cazzo sta disto? Fermo, non ho ancora finito. Fammi finire la frase. Ma che è un Pokémon Shiny? Oh no, se mi travi... Ma quanto cazzo ci metti a cascare? Merda, io so di tipo acqua, toccando a via! Ho voi un bacetto su una bua. Ormai sto giocattolo è solo mio. E nessuno me lo deve toccare, se no me incazzo come una bestia, mannaggia a quel porco de' Dio. Guardalo come dormi e beato. Ma visto che c'è la Bibbia ti dice sempre male, perché non te converti all'Islam? Non c'hai voglia di fatte esplodere il nome di un Dio che non esiste e ritrovate con dodici vergini in paradiso? Le vergini erano settantadue. Io credo solo in Cristo. Io sono Cristo! Alzati e cammina! Ma questo è un miracolo del Signore! Grazie, Signore! Ma vado a insegnare a tuo fratello che l'acqua in Giappone gira dell'à. La cosa che me preoccupa è che quel buco è abbastanza largo per il filo a cercare. Manco mi madre c'è a sti fetish. Giobbe rispose al Signore così. Ecco, sono ben piccino. Che cosa posso replicare? Mi porto la mano alla bocca. Spara nel n'altra, decazzata, li mortacci tua. Ho la gola umida e appiccicosa. Sento come delle gocce. E poi ho un mal di testa fortissimo. Ma che cosa è questo ruolo? Ci hanno detto due alcoliste. Ci hanno detto due alcoliste. Che il molise non esiste. Che il molise non esiste. Ce l'ha detto pure Giulia. Ce l'ha detto pure Giulia. Dopo Abruzzo c'è a Puglia. Dopo Abruzzo c'è a Puglia. Forza in posizione! Questo è il mio portentoso stand Vietnam Flashback. E no, nel caso tutte lo stessi chiedendo non ho votato a Buscio nelle ultime elezioni presidenziali. Ma a me sinceramente non me ne frega un cazzo di quello che hai votato te nelle ultime elezioni presidenziali. Ma quello è... Che cazzo ha fatto entrare quell'uovo dentro casa mia? Io so vegano dovete rispettarmi! Sparate a quegli stronzi! Ma stronzo non puoi usare protezione due volte di fila! Porca madonna! Conosci Giuditta che straordinariamente liberò il paese di Giuda? Ecco io l'ho straordinariamente rotto il culo comunque sono sopravvissuto all'esplosione grazie al paino del mese del saloon Quello dell'altro ieri Pompeii SORRI